ciao oggi voglio farti conoscere il fab una bevanda energetica isotonica che oltre a contenere i classici sali minerali contiene anche una buona fonte di carboidrati duratori e di vitamini soprattutto quelle del gruppo b la sua energia viene data a lungo termine anche grazie a una miscela brevettata di erbe adattogene utilizzare una bevanda energetica durante la allenamento durante la prestazione permette di mantenere energia concentrazione e idratazione inoltre il fab non contiene caffeina sintetica ma se vuoi avere più informazioni clicca sul link perché troverai il mio contatto